Benvenuti da Claudio Brechino, nuova puntata di USA24, format di Italpress che segue la lunga e appassionante storia dell'avvicinamento a novembre, al momento in cui gli Stati Uniti sceglieranno il nuovo presidente, è collegato con noi, oramai lo conoscete, facciamo coppia fissa, almeno per quanto riguarda Italpress e la televisione, Milano o Roma, New York e nella sua sede di New York all'ONU Stefano Vaccara, buon pomeriggio per quanto riguarda noi e sarà buon mattino. Buon pomeriggio dalla mattinata new yorkese. Oh ma devo dire la verità, statisticamente lì il sole non è presente in quella città, come ammazza? Ma guarda, ieri c'era una bella giornata di sole, c'è stata l'eclissi, lunedì qua dall'ONU abbiamo visto questa eclissi, siano tutti diplomatici, funzionari a testa in aria, così che guardavano, poi si è vista così così, Potevamo fare collegamento durante le crisi, allora vabbè, comunque siamo scortunati, diciamo noi come rubrica noi, diciamo che noi becchiamo raramente il sole, allora parliamo un po', non di solito noi facciamo questa rubrica, diciamo a ridosso dei vari voti per le primarie, nei vari stati, sia del Partito Democratico che del Partito Repubblicano, abbiamo fatto però, stiamo cercando un po' di settimanalizzare questo nostro incontro per raccontare un po', insomma il termometro della politica americana in questo anno importante, come ho detto, delle elezioni, anche con tutta una serie di temi che poi sono legati anche all'attualità, insomma in senso stretto, e per una volta abbiamo fatto una puntata sui processi che riguardano Trump, parliamo un po' di contenuti, avevamo detto poi, la faremo, faremo anche una puntata speciale sui programmi, una sul programma del Partito Democratico, una sul programma del Partito Repubblicano legato ovviamente anche alla personalità, diciamo di Biden e di Trump, perché è giusto poi che i nostri, diciamo, telespettatori, perché sono telespettatori in tutti i sensi, anche spettatori web, abbiano le informazioni per poter poi decodificare titoli di telegiornali, io di tolco, di polemiche su quello che accade. Allora, parlando di contenuti questa volta in maniera frammentaria, ci sono due parole che hanno diviso l'opinione pubblica americana, una è l'aborto e l'altra, ancora una volta, è l'Ucraina. Partiamo dal tema dell'aborto che già da un paio d'anni, tre, è tornata a essere molto divisivo come tema in America, dalla spinta, io lo dico in maniera molto rozza, poi tu sarai più preciso, dalla spinta dei tradizionalisti, insomma, che vorrebbero rimettere in discussione un diritto fondamentale anche delle grandi rivoluzioni culturali americane e invece, insomma, la sensibilità moderna, contemporanea, anche non solo dei movimenti femministi, ma dei movimenti, insomma, che rappresentano i diritti delle donne, dire no, l'aborto non si tocca. Cos'è successo? Allora, questa settimana è molto importante sulla questione dell'aborto. Poi è come se Trump avessi avuto sentore, perché due giorni fa lui ha fatto un intervento, video, dove, e l'aveva già annunciato da tempo, però proprio ha scelto i tempi giusti, perché ha fatto questo intervento appena in tempo, perché poi il giorno dopo, ora vi racconto il successo in Arizona, lui ha fatto un intervento dove lui ha detto, ora vi spiego la mia posizione sull'aborto, perché lui ha voluto chiarire, perché intanto i redemocratici stavano accelerando la loro campagna contro di lui, dicendo, è lui che ha messo i giudici nella Corte Suprema quelli che hanno abolito, no? le garanzie federali, cioè della Corte Suprema, della legge, sull'aborto, e lascia adesso fare questa sentenza della Corte Suprema che ricordiamo è del 2022, ha lasciato mano libera agli stati. Dunque lui, cosa ha detto Trump? Ha detto, dunque signori, io sono d'accordo che gli stati debbano prendere le loro decisioni, ma attenzione, devono essere i cittadini. Cioè, cosa dice Trump? Devono essere i cittadini nel referendum, nella cabina elettorale a decidere, non dall'alto qualche giudice o qualche politico dello Stato. Ed è successo, per questo io dico che forse Trump aveva sentore di quello che stava accadendo, e quindi il giorno dopo, dall'Arizona, la Corte Suprema dell'Arizona, quindi i giudici dall'alto, hanno invece ristabilito una legge del mille, attenzione, non 1964, ma 1864, siamo negli anni praticamente alla fine della guerra civile, che era una legge che non solo metteva fuori, assolutamente fuori legge, l'aborto. Ogni tipo di aborto, cioè anche nel caso di incesto, nel caso di violenza sessuale, qualunque tipo di aborto deve essere vietato. Questa è la sentenza di questa Corte Suprema, che attenzione, non è andata ancora in vigore, diciamo che hanno lasciato uno spazzetto, dicendo hanno lasciato un'altra Corte minore, dice però dateci un consiglio, però tu capisci quello che si è successo nel giro di 24 ore. Cioè tra Trump che metteva le mani avanti, no io sono ok, ogni Stato può fare come vuole, però lasciamo la parola ai cittadini, invece i giudici, io per questo personalmente penso che lui aveva avuto notizia che stava succedendo, hanno instaurato una legge draconiana del 1700, ancora non l'hanno instaurata, ma vogliono instaurare una legge del 1864. In Arizona, e questo mi fermo, i candidati repubblicani, tra cui quella più importante è Carrie Lake, che è candidata al Senato, attenzione, l'Arizona è uno stato importantissimo, soprattutto anche per la maggioranza del Senato, Carrie Lake, che già un paio di anni fa si è lasciata sfuggire che le piaceva questa legge del 1364, si è dovuto rimangiare tutto e ha detto assolutamente hanno sbagliato, non possiamo far passare questa legge. E i progressisti democratici come reagiscono a tutte queste tematiche? E ci sguazzano, in che senso? Loro, i democratici, già da tempo, già da settimane, ma anche già da due anni, quando ci sono state le elezioni di midterme, non so se vi ricordate, quella per il congresso, quando si aspettava la valanga repubblicana, non c'è stata, invece addirittura hanno preso più voti i democratici, in certi stati lo pensavano di perdere, proprio per la questione sull'aborto. Quindi i democratici, ormai per i democratici, è uno strumento di battaglia, di lotta per vincere anche a novembre, sia alle presidenziali che al congresso. E infatti Biden ha, diciamo che la vicepresidente Harris, fino adesso non si è sentita, ha fatto pochissimo. Bene, adesso è stata praticamente, lei fa da trotto in giro per gli Stati, degli Stati Uniti, per andare a parlare di proprio di questa questione. Non si è sentita, perché insomma questo anche noi italiani lo abbiamo capito, la signora Kamala Harris dopo essere stata indicata qualche tempo fa come l'astronascente femminile, politico allicorret, femminista, insomma progressista del mondo, del partito democratico, poteva addirittura sostituire Biden in caso incidente, vecchiaia, inconsapevolezza, mettetelo come voglia, volete, è scomparsa per manifesta antipatia, quindi è stata venuta fuori dalla campagna fino adesso, no? Correggimi se sbaglio, ora mi sembra che li metta al naso fuori su tematiche che sono proprio storicamente sue, no? Esatto, esatto, cioè lei non aveva avuto molto successo su altre tematiche, però effettivamente su questa tematica dei diritti delle donne, diciamo così, buca il video, si diceva una volta e quindi, ed effettivamente lì, attenzione, Trump rischia e si capisce perché Trump è molto nervoso su questo punto, ha già fatto dichiarazioni dicendo insomma così perdiamo, cioè lui dice, mi avete fatto già perdere una volta, però uno dice, ma scusa ma non sei stato tu a mettere quei giudici nella Corte Suprema che ora consentano che sta avvenendo questo, beh, Trump è, quando ci fu quella sentenza, si deve dare atto a Trump è che disse, è arrivata troppo presto, non doveva avvenire così, cioè lui non si aspettava, almeno a parole ha detto, che questi giudici che lui ha nominato accelerassero su questa questione. Seconda parola, secondo tema di oggi, di questa rubrica, abbiamo consumato un bel po' di tempo, ma qui saremo più rapidi, ancora una volta all'Ucraina, abbiamo letto anche i titoli sui media italiani, dice Trump, se io fossi Presidente saprei come chiudere in poco tempo, in 24 ore, la questione, immediata interpretazione a favore di Putin, dicono i critici e i polemici, perché di fatto, insomma, Trump vorrebbe chiudere la questione riconoscendo i territori che Putin ha conquistato illegittimamente, secondo, diciamo così, le regole della diplomazia internazionale, delle democrazie internazionali, cioè invadendole, annettendole, Crimea e Donbass. Che dici? Sì, è così, diciamo che c'è stato, tra l'altro, questa è la notizia di ieri, il ministro degli esteri ed ex premier britannico Cameron è andato a trovare Trump a Mar-a-Lago prima di andare a Washington, lui doveva andare a Washington a trovare Blinken e invece ha fatto tappa a Mar-a-Lago, come se lui, cioè come se gli inglesi ormai si aspettassero che, beh, ora, cioè state polemiche ovviamente, no? Ma come? Va prima da Trump? E il forenoffice ha detto no, è perché quando ci sono le elezioni non facciamo sempre così, andiamo a trovare tutti e due i candidati. Però, su questo, perché mi allaccio con l'Ucraina, perché si dice che Cameron, ci sono fonti che dicono che Cameron, quando ha incontrato Trump, l'ha andato lì per pregarlo di non aspettare fino a novembre, ma pregarlo di far passare una legge che ancora rimane in sospesa al Congresso per i soldi all'Ucraina. Ovviamente Trump, che ormai è il capo assoluto del partito repubblicano, sai lui, no? Dice fate passare la legge e la legge passa. Non sappiamo com'è andata, però, no? Grande riconoscimento che Trump tiene il pallino dell'Ucraina. Per quello che dicevi tu, ci sono notizie che dicono che il suo piano sarebbe quello di riconoscere non solo il Donbass, che è stato conquistato appunto con le armate, con l'invasione di due anni fa. Ma la Crimea, che è del 2015, diciamo così, però ancora a livello internazionale nessuno riconosce che è Russia. Bene, questo è il piano di Trump. Dare a Putin, alla Russia, sia la Crimea, che non si sa esattamente se tutta la parte del Donbass, ma per finire la guerra. Io ho fatto una domanda ieri proprio qui all'ONU. Cosa ne pensa l'ONU, il segretario generale del piano di Trump? E loro ovviamente hanno subito dovuto rispondere. Noi siamo per la legge internazionale, il rispetto e così via. Quindi, secondo la legge internazionale, questo non potrebbe accadere, perché nessuno riconosce che per la legge internazionale non si possono prendere dei territori attraverso l'invasione. Quindi questo è sicuramente un dibattito, sicuramente tiene cappero per le elezioni, chiamiamo così. Cioè, mentre interessa a noi, noi dell'Europa, cioè chi sta in Europa, per quello che farà l'America, per quanto riguarda la vittoria finale a novembre, diciamo che non credo, questo è un mio agizio personale, che questo sarà un tema che può far cambiare il voto da Trump o a Biden. Semmai forse il Medio Oriente più potrebbe, ma non quello dell'Ucrae. Ecco, un ultimo passaggio. Mi sembra che invece Biden sia molto impegnato nella questione medio orientale, soprattutto in questa dialettica che è diventata molto complessa con il leader israeliano Netanyahu, soprattutto su quello che Israele deve fare a Gaza, cioè il cessato del fuoco, il rispetto di diritti umanitari della popolazione palestinese. Questo attacco a Rafa, che è diventata una città oramai simbolo di un'eventuale missione ancora di Israele per poter sconfiggere Hamas, ma lì, diciamolo per il pubblico che non segue tutta la geografia della striscia di Gaza, sono andati a fine di tutti gli esoli palestinesi, quindi è diventata una città sovraffollata, a rischio di una nuova, uso questo termine molto brutto, macelleria, insomma. E quindi mi sembra Biden molto impegnato, e tu hai spiegato tante volte quanto è importante anche il voto, la sensibilità delle comunità musulmane in America, mi sembra molto impegnato sulla questione medio orientale, più che sulla questione di diritti o la questione ucraina, no? Sì, no, sulla questione di diritti è impegnato, è sulla questione ucraina che incide meno nella campagna elettorale, almeno per ora. Però su Gaza lui ha un problema, lui ha un problema ed è soprattutto sui giovani, perché i giovani attraverso i social, quando parlo di giovani ovviamente parlo campus universitari, la questione di Gaza ha veramente portato un distacco. Tra l'altro, qui mi allaccio con dei poll che sono un po' impazziti alcuni sondaggisti, cioè loro stessi dicono non ci capiamo più nulla. Cioè nel 2020 Biden aveva la maggioranza del voto giovane, ha avuto la maggioranza del voto giovane rispetto a Trump, che invece ha avuto la maggioranza del voto, diciamo così, degli anziani. Secondo gli ultimi poll invece sarebbe al contrario, cioè Biden è in vantaggio sul voto degli anziani e Trump sarebbe in vantaggio su quello dei giovani. È veramente strano questo, anche perché i giovani, ma quali giovani, poi si deve capire quali giovani, sono quelli che stanno nei campus universitari o quelli che, non so, fanno i meccanici, fanno dei lavori, perché lì è molto importante sul voto accessuale, perché ormai è cambiato pure lì. Allora io per concludere vi dico questo, che la questione di politica estera importa sicuramente più a Biden che a Trump. Trump per ora va spedito, cioè è in vantaggio, anche se leggermente, però quello che preoccupa più di tutti è Trump, sono i processi, e i processi lunedì inizia qua il primo processo, lui sta accettando fino adesso di bloccarlo, di tentare di ritardare, non ci riesce, quella sarà la prima volta che un presidente, un ex presidente degli Stati Uniti, viene messo alla sbarra per un processo penale. Quello, l'effetto che avrà quello, ecco, è quello che preoccupa di più Trump. Allora noi l'avamo affrontato, ricordicelo solo come titolo, poi ne riparliamo nella puntata che facciamo la prossima settimana, si chiama Ash Money, insomma hai pagato per il silenzio, poche parole, no? Giusto? Quindi, insomma, la vicenda delle porno star, chiamiamola così per farci capire in sintesi dal pubblico. Vabbè, da qui a New York. Qui a New York. Allora, noi lunedì comincia, giusto? Lunedì comincia, può essere che il collegamento, chissà, magari lo facciamo da qualche altra parte. Vabbè. Vicino alla corte. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana per continuare a sentire un po' il termometro dell'opinione pubblica americana, insomma, lo sentiamo, lo vediamo, comunque è legato alle grandi questioni anche internazionali che ci riguardano e comunque per raccontare anche come va questo processo che può essere forse decisivo, l'abbiamo spiegato tante volte, per il destino politico di Trump, a prescindere dal suo destino politico. Stefano Vaccaro, io ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi, ti auguro buon lavoro e buona permanenza nel cielo grigio dell'ONU. Va bene? Anche a voi, arrivederci. Arrivederci, grazie a voi che ci avete seguito, come avete, insomma, l'ho appena detto, USA24 torna la prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.